bentornati ha detto fatto io sono valentina e lui è michele allora oggi con michele creeremo dei segnalibri con i bastoncini del gelato come questi vogliamo cominciare si ecco la gomma crepla con dei fogli di gomma crepla a tinta unita come questi oppure glitterati come questi cominciamo si cominciamo utilizzeremo come prima cosa la nostra fustellatrice insieme alle fustelle come queste inseriamo il foglio che vogliamo ritagliare quale vogliamo ritagliare allora facciamo così ok vai avanti con la manovella ed ecco i nostri oggettini ritagliati adesso facciamone un altro conquisto ritagliati i nostri oggettini adesso passiamo ad attaccarli sui bastoncini per creare i nostri segnalibri con la colla a caldo adesso andiamo ad inserirlo all'interno del nostro libro da leggere ed ecco il nostro segnalibro provateci anche voi vi aspettiamo alla prossima puntata di detto fatto da valentina e michele ciao ciao